Buonasera a tutti all'Opus Rebar, siamo a questo giovedì santo, quindi giovedì l'ultima cena. Siamo alla settimana santa, quindi ora ovviamente questi giorni quando andrò a scuola mi dedicarò alla correzione dei compiti, alla preparazione delle lezioni, sì perché vanno anche preparate le lezioni, alcune cose vanno preparate, quindi nel tempo più libero, che più libero non c'è, ma poi il tempo lì è che siamo tutti sti giorni, cioè giovedì, verdì, sabato, domenica e poi lunedì di pasquette e poi mercoledì, sì lo so, ci sarà la solita polemica di insegnanti sfaticati, però veramente l'insegnamento è un tipo di lavoro che non è il discorso di essere solo in presenza, anche perché non puoi stare in una classe otto ore al giorno a insegnare, se no esci fuori di testa, non è come stare al computer a fare, cioè se io mi leggo questo libro qui sui samurai, mi sto preparando per le lezioni, sembra strano, ma essendo un lavoro intellettuale, questo non dovrebbe capito, cioè il lavoro intellettuale è un lavoro che tu lo fai sempre, anche quando fai altre cose, ma questo è un po' difficile da spiegare, cioè non è un lavoro che tu timbi il cartellino esci, non è che, non è fare il pane, cioè fare il pane è una cosa bellissima, però è un lavoro che non ti puoi staccare da questo lavoro, cioè anche quando non sei al lavoro è un lavoro, infatti a un certo punto uno sente un po' il desiderio di andare via dalla scuola, perché la scuola è fagocitante, sembra strano, in realtà diceva ci state poco a scuola, ah sì ci stiamo un po' poco in realtà ovviamente, no ultimamente con i consigli di classe online li abbiamo fatti molto a casa, però non è che poi sempre l'ottore di scatole sono, sia che se tu le faccia, magari non c'è lo spostamento, poi abbiamo scoperto l'acqua calma, che queste cose si potrebbero fare online senza stare tutti abbassati in una stanza, abbiamo scoperto, c'è voluto una pandemia per scoprire queste cose, va bene, anche perché vuoi dire se tu stai dentro la scuola devi tenere le luci accese, se sei a casa, se le spese tue, e converrebbero stata addirittura, pensate che cosa, però c'è sempre quest'idea che noi non si fa niente, siamo a leggere i fumetti, i fumetti tipo Zagor, oh questo è il classic Zagor, 388, quindi 12, 24, 36, sono tre anni che lo sto seguendo, e con molta pazienza, perché ovviamente questo è del 66, quindi stiamo parlando di numeri che ormai hanno, sono reperti archeologici, insomma, archeologici no, ma insomma sono antichi, in senso che io ovviamente questi, cioè questi sono precedenti, perché sono nato nel 68, quindi questi sono precedenti la mia nascita, quindi, certamente Zagor è il personaggio forse che ha influito di più nella mia infanzia fumettistica, più di Tex, che leggevo anche Tex, però Zagor è quello che mi ritrovavo meglio, per cui, questi albetti del 66, che ovviamente poi si sono riletti, gli stampi, eccetera, eccetera, qui è l'apparizione, per la prima volta di Dick and Bill, il famoso cercatore di tesori, con il suo costumino, eccetera, eccetera, e Dick and Bill è uno dei personaggi di Nolitta o Bonelli, che ci fa capire come, perché a volte Zagor arranchi più di Tex Will, perché Zagor arranca più di Tex Will, per esempio, quando Boselli ha rifatto Befista, in fondo, la trama classica c'è sempre, insomma, vuoi dire, però Zagor è che Zagor e i suoi personaggi comprimari, con tutta quella ironia di Bonelli o Nolitta, è difficilmente proseguibile, cioè non è un percorso facile da proseguire, Zagor, apparentemente, potrebbe essere sembrare più facile di Tex e in realtà è molto più difficile, perché un personaggio come Dick and Bill è difficile da gestire, è difficile da gestire se non c'è quell'ironia di Bonelli. Questo è il primo incontro, vediamo il primo incontro con Dick and Bill, che prende a fucilare Zagor e Cico, però è un personaggio strampalato, stralunato, cercatore di tesori, che cerca tesori senza sperando di non trovarli in realtà. Cioè, Dick and Bill è un personaggio che, come tutti noi, cerchiamo qualcosa, ma c'era veramente Bonelli, aveva questa capacità che è veramente unica e poco ci c'è, in realtà Sergio Bonelli, pure essendo figlio di John Luigi Bonelli, non è che era figlio di un conosciuto, aveva tutto un altro stile rispetto al padre e dietro un personaggio, apparentemente sconclusionale con Dick and Bill, mi ricordo il numero 100 di Zagor, quando c'è la caccia, cioè è un personaggio che vive nella ricerca dei tesori, non li vuole trovare, cioè trovare un tesoro, per lui sarebbe la fine di Dick and Bill, cioè se trovasse il tesoro di Capitan Kid, come sta cercando qui, e questa è molto sottile, cioè questa cosa, Sergio Bonelli è molto sottile, non è stupida, vorrei dire un personaggio come Dick and Bill, le scenette con Dick and Bill che prende a padellate Cico, perché, qui faccio spoiler, nel senso è ovvio che faccio spoiler, perché, faccio vedere comunque i disegni di Galliano Ferri, del 66, pensa a questa roba del 66, dei belli disegni comunque di Galliano Ferri, quella, vabbè, Bonelli contro Galliano Ferri e Gale, penso me la mi sa bene, nel senso che, negli anni 60, l'istoria di mare, qui, dicevo che comunque personaggi come Dick and Bill sono, dicevo, vabbè, anche di coscenette come la padellata, la padellata, ecco che Dick and Bill scappa tirando una padellata in testa a Cico, cioè che sembra a volte in Zago, è un frumento a volte copico, dove il copico ha una profonda rilevanza, più che in text wheel, cioè, infatti, quando Gianluigi Bonelli dovette fare, però, ci sono i primi numeri, alcuni numeri dove dovette sceneggiare Gianluigi Bonelli, perché Sergio Bonelli aveva inventato il personaggio, ma poi, in parte, l'aveva abbandonato, prima a Galliano Ferri e poi, al padre, il padre si trova un po' in difficoltà con Cico, perché, ma lo capisco, perché personaggi come Cico e Dick and Bill, che sono stati creati da Norita, sono di difficile gestione, perché ci vorrebbe, cioè, personaggio di Cico, Cico di Gonzales, cioè, veramente, Cico, è un personaggio che è stato sempre molto spesso criticato, Cico, per esempio, però se trattato da Sergio Bonelli ha un suo perché, se trattato da altri diventa una palla al piede di Zago, perché Cico è un personaggio stralunato, un uomo lunare, con questa fase tonda, come i papalla, no, di pianeta papalla, ecco, di testa, so, e Dick and Bill è lo stesso personaggio, cioè, un personaggio stralunato, e poi ci mischiava, ovviamente, qui è una storia di saccheggiatori che fanno affondare le navi con il vecchio trucco del faro spento e del, però, questo, ovviamente, rimane da una scena salgariana, cioè, qui sembra quasi un appunto di salgari, e tutto portato con una leggerezza, con una cosa, anche la, cioè, questi, cioè, poi è tutto stralunato, in senso, indiani cannibari, ci troviamo un libro, un libro di indiani cannibari, che non credo sia mai esistito, indiani cannibari, danze quasi africane, tanzanidi, cioè, tutto questo si capiva, cioè, rileggendo ancora oggi questi numeri, si capisce che Sergio Bonelli si divertiva come un pazzo a fare queste storie, apparentemente anche così. Poi, in realtà, Sergio Bonelli ci metteva sempre delle, delle riflessioni anche di Dick and Bill, che è un personaggio apparentemente così, cercatore tesori e sfortunato, però, e rileggendo questi albi di Sergio Bonelli che ha una nostalgia tremenda, come ascoltare la canzone di Paolo Conte, insomma, non lo so, e quando poi rileggiamo Zago, è veramente, secondo me, è più difficile portare avanti Zago, che è Tex, io infatti non vorrei essere dei pandi, li vorrei no burattini, perché avanti Zago non è un'impresa facile. Per certi ragazzi Tex, essendo un pochino più quadrato, più, più, cioè, siccome Tex l'ha creato Gianluigi Bonelli, che è un personaggio, cioè, in realtà, anche Tex ci sarebbe da fare tutto un discorso, come si è evoluto, eccetera, il primo Tex è tutto un'altra cosa, insomma, quello che stanno ristampando degli albetti, ma, che io sto seguendo questi albetti di Tex Huilar, si, si, mi sto seguendo gli albetti, e, Fatania, c'è tutto, il primo Tex, insomma, molto particolare, e, in realtà, in realtà, Zago, però Tex è un personaggio, comunque, si gestisce meglio, perché, come tutto, lui è il, cioè, il protagonista è Tex, anzi, nei primi albi di Gianluigi Bonelli era su Tex, poi, gli altri sono venuti dopo, mentre C'è Zago nasce più, come un profetto più corale, cioè C'è Chico non è solo una spalla, è il protagonista di molte vignette, anche autonome, quindi non puoi fare Zago senza Chico, lo puoi fare ma diventa un'altra cosa, li trovi con personaggi stranati e assolutamente comici o strani e quindi è lo stesso Zagor a volte Zagor diventa la figura comprimaria lui cioè in queste storie a volte Zagor è il comprimario perché a un certo punto Digninville e Cico prendono talmente il sovravvento sulla storia da marginalizzare Zagor e Zagor è un po' quello che mi ricordo a volte Cico e Zagor un po' quando c'era la coppia cioè lui è Dean Martin Zagor fa un po' Dean Martin poi certamente nelle scene di azione Zagor è quello che conta però in queste scene apparentemente copiche stranate non è che non sono solo riempitive c'è una sua filosofia questi poi pirati tipo Isla del tesoro vabbè si capisce che il vecchio Sergio Bonelli si divertiva un mondo e noi a distanza di tanti anni ci divertiamo ancora un mondo a rileggere queste storie e vabbè chi piace Zagor e chi non gli piace piace Zagor però ovviamente lo Zagor di Sergio Bonelli lo Zagor che c'è ora è perché il problema è che sostituire cioè alcune persone non le puoi sostituire cioè non le puoi sostituire nei loro personaggi è come se uno gli chiedesse di fare anche corto martese è stato continuato corto martese però corto martese non è scritto da Uoprate capite in certi sensi non ha senso e per certi versi Zagor è più cioè non è che c'è molto corto martese però tutto questo mondo di Sergio Bonelli è difficile da gestire se non sei Sergio Bonelli anche se tu e te te sei letto tutti gli albi Sergio Bonelli sei appassionato però Sergio Bonelli era Sergio Bonelli si due idem fascio non è idem sempre fanno la stessa cosa ma è più la stessa cosa e con questa massima filosofica ma sai che capelli fate bene secondo me se qualcuno si disiscrive attivamente fa bene perché c'è veramente un aspetto dannofrago del web sembra nell'isola deserta che Robinson Crusoe è consulso e fa video nel web ma parleremo anche di altro parleremo anche di altro e anche un video su Gesù se si su Gesù non religioso è che faccia la predica di Pasqua però c'è anche Gesù e il diavolo che sono un tema che mi affascina ma questo direbbe Sergio Bonelli è un'altra storia